Eccoci qua, non sono Babbo Natale, quello vero, non ho perso la testa. Quest'anno sto proponendo a voi un'idea fantastica che venne alla signorina Corina, fatemela, la voglio presentare, eccola qua, come later, come on, let me presentci now, ti voglio presentare ora, ha avuto un'idea favolosa, eccola qua, vedete con questa maglietta, avete notato pure la mia maglietta già, vero? L'hai già mostrata a Corina la mia maglietta? No, no. Ah, falla vedere un attimo, ebbe un'idea favolosa, quella di, un giorno se ne venne, stavo studiando in, stavo in camera studiando e disse, ma perché quest'anno non provi a fare un, come si dice in italiano, un calendario, un calendario natalizio presentando ogni giorno un nuovo pezzo. Christmas song, no, un nuovo pezzo, sì, canzoni natalizie, Christmas carols, e ho detto, no, come on, Corina, ci sta troppo poco tempo, perché me lo disse tipo sette giorni fa, ho detto, non ho il tempo materiale per farlo, eppure perché non ho mai suonato tante canzoni natalizie in vita mia, sì, qualcuna di quelle famosissime italiane, qualcuna un po' più famosa internazionale, ma non ne conoscevo tante. Come faccio? Però poi dopo qualche minuto ho detto, ma perché non ci provo? Perché poi a me piacciono, lo sai, a me piacciono queste sfide interessanti. Allora ho detto, sì, proviamoci. E oggi, primo dicembre, stiamo per presentarvi il primo video, per presentarvi la prima canzone natalizia, e spero che voi la riconoscerete. Qualcuno di voi avrà già letto il titolo nel, diciamo, nel titolo di pubblicazione del video. Allora, ci rivediamo fra qualche minuto, dopo che avete ascoltato il pezzo, ok? And say enjoy the song. Eh, enjoy the song in Italian and I have to say... Spero vi piaccia la canzone. Ci vediamo fra qualche minuto, ok? Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che avete riconosciuto la canzone, Deck the Halls, una famosissima canzone natalizia. Io ora vi invito ad iscrivervi al mio canale, perché da qui al giorno di Natale potreste ricevere ogni giorno un nuovo video. Un'idea che è stata di questa magica signorina. Yeah! È una vera sfida per me, perché ogni giorno stiamo preparando un nuovo video. Spero di riuscirci, spero di potervi offrire ogni giorno una nuova canzone natalizia. bravo! Vi aspetto domani con una nuova canzone. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!